ciao a tutti oggi siamo in piemonte in provincia di novara ci troviamo ad ameno sono con mia mamma e la piccola viola siamo tornate per fare un altro petalo del quadrifoglio di ameno l'altro giorno abbiamo percorso l'anello celeste oggi percorreremo l'anello azzurro buona visione il quadrifoglio di ameno è composto da quattro percorsi ad anello per un totale di 33,6 chilometri e un dislivello totale di 1215 metri i percorsi sono percorribili per il 90 per cento della loro estensione anche in mountain bike e a cavallo sono stati progettati in collaborazione con riccardo carnovalini uno dei più noti camminatori italiani che è stato anche il creatore del logo del quadrifoglio di ameno e da cittadino onorario di ameno i percorsi sono l'anello celeste l'anello azzurro l'anello indaco e l'anello blu potete trovare tutte le informazioni utili sul sito www.menoturismo.it noi abbiamo lasciato l'auto in un posteggio gratuito in via cavour dopodiché abbiamo proseguito verso piazza marconi è possibile lasciare l'auto anche in un posteggio gratuito dietro al municipio in piazza dei cavaliere di vittorio veneto è presente anche l'ostello del quadrifoglio con un piccolo parco giochi e un circolo riservato ai soci ci siamo lasciati il municipio alle spalle e parte proprio di fronte sentiero si attraversa il parco neogotico tornielli e molto bello dopo il parco si trovano subito i primi cartelli che indicano di proseguire a sinistra c'è un altro posteggio c'è una piccolissima deviazione che indica zona panoramica da qui si vede giù proprio la vallata ci sono le mucche le pecore un ponte romano e adesso andiamo il sentiero è sempre ben segnalato con i segnali a bianco e rossi e vari cartelli a questo bivio noi andiamo a sinistra a destra invece indicato parco avventura panchina gigante stiamo percorrendo la piana agricola della gogna in mezzo a mucche cavalli molini e cascine l'unica cosa che c'entra poco con questo ambiente bucolico è l'elettrodotto qua abbiamo proseguito sulla strada principale fino a trovare un bivio sulla destra sempre ben indicato mi piace l'unica cosa che hai è un bivio sulla strada che è una città che c'entra e l'unica cosa che c'entra l'unica cosa che è un bivio l'unica cosa che è un bivio e Siamo arrivate a Pisogno, frazione di Miasino, questa è la parte dell'anello più lontana da Amino e da qui torneremo indietro proseguendo con l'anello. Siamo a poco meno di metà giro, oltrepassata la piazzetta si prosegue dritto, a Amino danno 3,7 km. Questo giro ci sta piacendo moltissimo perché si è proprio immersi nel verde, anche quella casa laggiù, meraviglioso. A presto, a presto. Ci siamo persi via col ponte, non bisogna attraversarlo ma bisogna proseguire dritti. Siamo andati a vedere i cavalli. Camminerò, un passo da te. Mancano circa 2 km per tornare a Amino, siamo dalla parte opposta della piana. Stamattina siamo scesi proprio di fronte. Stamattina siamo scesi proprio di fronte. L'hai visto? Guarda le Giulie, le Coccò. Abbiamo proseguito sempre dritti fino ad arrivare ad uno stop. Qua sulla sinistra passa l'anello indaco, cioè prosegue l'anello indaco, mentre noi adesso andiamo a destra. Manca circa un chilometro alla fine e adesso ci sarà la salita finale. Adesso attraversiamo il torrente, qua alle mie spalle c'è una costruzione degli alpini, c'è scritto testardo come i muli, testardi come i muli, decisa una cosa, si fa. Grazie a tutti. Adesso siamo arrivati da lì, se avete posteggiato in via Cavour è comodissimo perché arrivate direttamente al posteggio. E dopo poco più di 6 chilometri siamo tornati ad Ameno in piazza Marconi. Questo giro personalmente mi è piaciuto più dell'anello celeste, mamma. Anche a me è piaciuto di più, con l'azzurro. Molto bucolico, abbiamo visto tanti animali, anche Viola si è divertita tantissimo. Speriamo che anche questo giro vi sia piaciuto e ci vediamo presto con nuove avventure. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.